La protezione civile torna nelle piazze di 55 comuni toscani per incontrare i cittadini nella nona edizione della campagna Io non rischio, promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e presentata a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana. 654 volontari appositamente formati saranno in 33 piazze il 12 ottobre e in 60 piazze il 13 ottobre per comunicare ai cittadini le buone pratiche in caso di terremoto, alluvione in maremoto, rischi da cui la Toscana non è esente. Ormai abbiamo molto chiaro il fatto che il cittadino è parte attiva di un percorso di protezione civile che deve essere informato, formato anche su quelle che sono le buone pratiche da seguire in caso di evento e i momenti come questo servono esattamente intanto a dare una rappresentanza, una visibilità alle tante donne e uomini che lavorano in questo ambito, ma anche a sviluppare una conoscenza che è fondamentale spesso in caso di evento per salvare anche vite. La campagna Io non rischio a cui è prevista la partecipazione del capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli quest'anno è anche l'apertura della prima settimana nazionale della protezione civile. Gli obiettivi della campagna Io non rischio sono essenzialmente quelli di aumentare la consapevolezza dei rischi che dobbiamo fronteggiare da parte di tutti i cittadini e anche e soprattutto aumentare la capacità di autoprotezione e di buone norme di comportamento, delle migliori scelte di comportamento in caso di verificarsi di un evento calamitoso. In tutta Italia sono 5.000 i volontari appartenenti a 750 realtà associative coinvolti nell'edizione 2019 della campagna Io non rischio.